Oggi siamo insieme a Fabio Lugano, nostra conoscenza che l'avevamo già portato in live, è coordinatore ed autore di ScenariEconomici.it ed è anche un economista. Ciao Fabio e ciao Tiziano. Ciao a tutti, ciao Tiziano, ciao a tutti, grazie per quelli che ci stanno ascoltando e che hanno la pazienza di ascoltarci. Allora speriamo che questa live sia un po' più fortunata della nostra ultima live insieme perché dall'ultima live una settimana dopo è scoppiata una guerra, un conflitto. La guerra lì tra Ucraina e Russia, quindi speriamo di portare più fortunati. Questa volta forse è già successo, questa volta siamo in Italia. Ormai sì, speriamo che inizia la terza guerra mondiale perché alcuni la reputano probabile, ad esempio come era Italia. Allora c'è un problema di escalation in corso in questo momento in cui si tenta in ogni modo di allargare i conflitti già esistenti, non tanto quella in Ucraina che ormai si sta un po' congelando su una situazione. Questa sera parlerò di una situazione di fronte tranquilla, domani ci sarà uno sfondamento da una parte o dall'altra. Comunque in cui sembra che la situazione sia piuttosto stabile e non ci siano dei grossi cambiamenti. Il problema in questo momento è il Medio Oriente. Quello che succede lo sappiamo tutti, i commenti li lasciamo ai politici, quindi sinceramente me ne sterrei. Quello che vorrei dire è che però, per esempio, questo conflitto è ancora in questo momento contenuto. Facciamo un esempio pratico. Questa settimana sono stati conclusi due grandi accordi tra il Qatar e Francia e Paesi Bassi. Accordi che dureranno per 27 anni, quindi con una prospettiva veramente di lungo periodo, per l'esportazione del gas naturale, con già fissati margini di prezzo, quantità acquistate e così via. Ora, quindi, questo ci fa capire che il Qatar, Francia, da un lato, i Paesi Occidentali, Francia e Paesi Bassi, non si aspettano di fare una guerra a breve, se no non avrebbero concluso un contratto così impegnativo e così di lungo periodo. Diciamo che le prospettive, se non altro, sono quelle in questo momento di un non allargamento del conflitto. Oggi, anzi, partita ieri, ma oggi sta arrivando al culmine, c'è anche un'iniziativa molto grande in Cina, che è il festeggio dell'evento per celebrare la Belt and Road Initiative, voluto dalla Cina per mostrare quelli che sono i lati positivi di questa iniziativa di investimento sull'asse asiatico che dovrebbe mettere in contatto Occidente e Oriente. Ha preso parte, ad esempio, Putin a questo evento, per l'Europa ha preso parte solo l'Ungheria di Orban, Orban è presente, però comunque è un evento che coinvolge una parte del mondo che si aspetta che questi investimenti vadano avanti ed abbiano un seguito. Quindi, anche in un momento di grande pessimismo e di pessimismo un po' diffuso, bisogna anche avere però una visione di lungo periodo. Comunque, gli conflitti sono, nel bene o nel male, destinati sempre a risolversi. Nel bene o nel male, dipende da uno, da che parte si trova, del conflitto stesso. C'è una visione mainstream che magari non è la verità assoluta e magari c'è un'altra verità. Tu come la pensi? Allora, secondo me la verità è fatta da un insieme di tante verità. Cioè, il mainstream dice la sua e io ho una visione leggermente diversa, ma non è che la mia sia sostitutiva, ma diciamo si affianca e dovrebbe integrare una visione di carattere mainstream. Cioè, in questo senso, io vedo purtroppo una serie di grossi errori che sono stati fatti dagli Stati Uniti, che hanno mostrato in modo evidente una decadenza di tutto il sistema occidentale. Il quale, se prima giostrava molto bene sul riuscire a mostrarle una forza, anche militare, che in realtà in buona parte era apparente, soprattutto dal lato europeo, gli errori compiuti dagli Stati Uniti hanno mostrato come questa forza in realtà non esistesse in buona parte, oppure fosse supervalutata. Soprattutto dal punto di vista degli europei si è scoperto che noi non contiamo un cavolo. Ma prima c'era questa sensazione, la sensazione è diventata una realtà tangente. Questi conflitti stanno portando al scioglimento lentamente della globalizzazione. Basta pensare alle varie sanzioni, al famoso decoupling che c'è in corso tra Cina e Stati Uniti, contenuto per carità, perché comunque si vuole fare affari, ma un certo ritorno alla produzione nazionale c'è, quel famoso che gli americani chiamano reshoring, cioè il ritorno alla produzione nazionale di certi prodotti soprattutto strategici. Io vedo uno sviluppo di alcuni player molto opportunisti, molto intelligenti dal punto di vista dell'interesse nazionale in questo momento, come per esempio l'India. L'India si sta sviluppando fortemente, sta traendo grossi vantaggi da questa situazione, giostrando un po' tra un blocco tra la Russia, gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina, mantenendo una sua posizione di forte interesse nazionale, ma nello stesso tempo cogliendo le occasioni migliori, che possono essere ad esempio accordi di importazione di materie prime a prezzi molto contenuti dalla Russia, uno scambio commerciale però con fattori strategici mantenuti internamente con la Cina, e l'essere fornitore cliente dell'Europa e dei Stati Uniti. Esempio pratico sulla parte di armamento, ad esempio adesso l'India sta guardando agli Stati Uniti perché non vuole avere troppo a che fare con la Cina per motivi di confine. Pochi lo sanno, ma per esempio io abito nell'Emilia-Romagna, nel Reggiano la meccanica indiana è entrata come subfornitrice potente delle varie aziende meccaniche dell'ambito del Reggiano e dell'Emilia-Romagna, perché sono riusciti ad entrare con assieme di prodotti di qualità e ormai stanno prendendo un certo piede non come contraenti principali, ma come subfornitori, ma comunque si inizia sempre come subfornitori nello sviluppo industriale. Quindi qualcuno si sta approfittando, qualcuno ne sta perdendo, noi essenzialmente, e qualcuno si mantiene a galla agli Stati Uniti. Questa è la situazione. Comunque vedremo un'evoluzione multipolare, nella quale come Europa faremo la fine del vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Noi non abbiamo la flessibilità di un sistema di vero libero mercato, più mercato, come possono essere gli Stati Uniti, non abbiamo la capacità di centralizzare, come si può dire, il sviluppo come potrebbe fare la Cina, non abbiamo un mercato grande come quello dell'India, quindi se abbiamo dei punti solo in questo momento di debolezza e non di forza, vedremo cosa accadrà. Senti, invece, a livello monetario, come la vedi, cioè questo gioco di forza che ovviamente il dollaro vuole mantenere e paradossalmente lo stato attuale sta forse creando tempo, dal mio punto di vista, proprio alla forza del dollaro, però c'è l'ascesa delle altre, no? Se dovessimo andare in uno scenario verso il quale appunto il dollaro degli Stati Uniti andrà poi a decadere, cosa vedi in scelta di tutti? Ovviamente la cosa scontata è la scelta, magari, però anche il discorso BRICS, cioè come si stanno incrociando queste cose? Allora, prima di tutto, se i BRICS faranno una moneta, non sarà una moneta unica. Le BRICS sono un blocco di paesi che vogliono un sistema di libero mercato che si affianchi o sostituisca il WTO, cioè l'attuale sistema, diciamo, occidental centrico, anche se poi la Cina è entrata potentemente, sostituirla come sistema di libero mercato che, per esempio, non sia basato sul sistema bancario dello SWIFT, quindi che permetta una serie di pagamenti bilaterali nelle rispettive valute. Sempre parlando dell'India, l'India ha creato un proprio sistema di pagamento internazionale in rupie, poco utilizzato per adesso, ma comunque esiste. La Cina ha creato il proprio sistema in pagamento yen, la Russia l'ha fatto con i rubli, cioè si torna a un sistema di pagamenti non più dollaro centrico, ma più su singole valute. Allo stesso tempo, il dollaro, in realtà, sta mantenendo la sua centralità, perché? Prima di tutto, ricordiamoci che gli Stati Uniti sono dei grandi compratori e il cliente ha sempre ragione. La perdita di peso degli Stati Uniti, per esempio, sul paese del Golfo e dell'Europa, sui paesi del Golfo, è legato sia a fattori strategici, militari, eccetera, ma soprattutto a una cosa banale. Gli Stati Uniti non comprano praticamente più petrolio dal Golfo. Non comprando petrolio dal Golfo, se prima l'Arabia Saudita aveva un interesse, per esempio, a usare maggiormente il dollaro, perché lo utilizzava anche nello scambio bilaterale con gli Stati Uniti, adesso non ha più interesse, può pagare benissimo il yuan con la Cina, che importa petrolio ed esporta prodotti finiti. Quindi l'evoluzione delle valute segue l'evoluzione dei commerci internazionali da un lato, ma anche il potere della finanza dall'altro. E per ora la finanza rimane ancora centrata negli Stati Uniti. Se voi andate a vedere, peccato che non ci ho pensato, potevo prepararla, la carta del BIS, della Bank of International Settlement, la banca centrale delle banche centrali, sull'andamento dell'utilizzo delle valute, voi vedete che il dollaro, negli ultimi 24 mesi, rimasto più o meno costante, sono addirittura sere rafforzato come utilizzo. Quello che veramente sta perdendo è l'euro. L'euro sta uscendo rapidamente dal centro dei commerci internazionali e dal centro della finanza internazionale. Ciò rimane nascosto perché non ne parlano, se uno non va a vedersi i grafici del BIS, non ne parla nessuno, ma in realtà, come dicevo, c'è un grande sconfitto in questa guerra e siamo noi i grandi sconfitti. Poi, a questo, noi uniamo una serie di estrambe e questa, secondo me, sarà la grande spinta per le criptovalute se andiamo in questa direzione. è quella della Central Bank Digital Currency, la CBDC, la valuta digitale delle banche centrali. È un qualcosa che la Cina fa e che impone a suon di leggi, ma non è uno stato democratico in senso occidentale, ma neanche in senso lato. C'è un partito unico, quindi diciamo che omaggi questa minestra o salti dalle finestre. Non ci hanno grossa scelta. Gli Stati Uniti la vogliono sperimentare, ma la stanno prendendo alla lontanissima e alla larghissima. Poi, con degli singoli stati che hanno già detto, ad esempio, Texas, noi la via valuta della banca centrale digitale, quindi con possibilità di controllo, mi ingegniamo una criptovaluta centralizzata, quindi l'esatto contrario della criptovaluta. Criptovaluta centralizzata, quindi con possibilità di mettere una scadenza, di controllare le transazioni, di farti spendere in una cosa, ma non in un'altra e così via. Noi questa cosa non la vogliamo, con alcuni stati che hanno detto non solo non la vogliamo in generale, ma se tu, cara Federal Reserve, pensi di imporla, noi, e caso è stato il Texas, noi faremo una nostra valuta che non avrà i tuoi vincoli, una valuta di Stato, una criptovaluta di Stato garantita dai depositi in dollari dello Stato. Quindi hanno una visione completamente diversa, difficilmente si arriverà a una digital currency, si arriverà a un sistema di pagamento diretto dalla Fed, ma non a una digital currency, anche perché le grandi sistemi di pagamento internazionale di carte di credito sono americane, si darebbero una grande zappata sui piedi, facendo una digital currency. Al contrario, noi che partiamo sempre imitando i peggiori esempi mondiali, stiamo sperimentando la volentabilità digitale della banca centrale, che ha delle ricadute sulla libertà individuale di cittadini potenziali devastanti. Esempio praticissimo, io posso fare, se io avessimo avuto, per esempio, con le sanzioni una valuta digitale, io potevo impedire fisicamente i pagamenti verso un fornitore russo, a qualsiasi costo, perché bastava che io bloccassi la transazione con tutti coloro che avessero avuto un certo IP e io stroccavo qualsiasi possibilità di pagamento. Ma io posso anche dirti che tu sei arrivato a fine mese, hai usato tutti i tuoi crediti al carbonio, quindi tu non puoi comprare nient'altro se non lo stretto è indispensabile, perché posso dirigere come se io potessi dirigere con una criptovaluta centralizzata le mie spese su una direzione invece che in un'altra. Ovviamente solo a pensare di applicare un sistema del genere chiunque comprerebbe bitcoin o ethereum o qualsiasi criptovaluta che mantenesse la possibilità di dirigere in modo completamente libero, giustamente arbitrario, le proprie spese e i propri consumi, perché neanche... Ma vedi come una risposta, cioè come una soluzione a questo scenario distopico? Sì, io la vedo come una soluzione, ma chiamate distopia, ma ricordate che quanto più una cosa stupida più viene applicata, cioè questo... Non bisogna mai sottovalutare il potere del cretino, lo diceva già Cipolla negli anni 70. No, no, ma non lo ritengo impossibile. Io lo ritengo molto impossibile. Allora, vi faccio l'esempio banale che c'è stato in questi giorni di X. X abbiamo avuto la... Allora, io mi vergogno ho lavorato sul DSA, sulla tutta la normativa relativa al... Ci ho lavorato prima che avessi quella malattia che mi ha impedito, mi ha obbligato a ripensare tante cose della vita. Comunque ho lavorato sul DSA, cioè il Digital Service Act, quello che sta... che praticamente dirige tutta la politica digitale dell'Unione Europea. Il Digital Service Act, noi avevamo... Chi ci lavoravamo avevamo capito che sarebbe stato un disastro per la libertà di espressione, perché dà il potere alla Commissione di chiedere, di censurare i social media. E infatti, cosa ha fatto il commissario Breton, che è incaricato della gestione del DSA? Ha chiesto a X di censurare i post relativi a una determinata questione politica che non è centrale in questo momento. Cioè, è centrale ma non vorrei lasciarla al di fuori dal discorso. Potrebbe essere anche il tifo tra Juventini e Interisti, cioè per quello che poteva essere il tema. Lui ha chiesto di censurare una certa cosa e ha detto se tu non lo fai ti do delle sanzioni. Adesso, oggi è uscito su una serie di, come si dice, di giornali internazionali, la reazione di Libertaria dal mondo anglosassone dicendo ah ma noi quando sentivamo parlare di DSA non intendavamo che fosse applicato in questo modo. Siete stupidi. Quando tu dai una restrizione alla libertà, esatto, tu dai una pistola in mano a una persona, non sai come sarà utilizzata. A priori, ex ante, tu non lo sai. Esiste il porto d'arme apposta perché non si sa come la gente utilizzerebbe le armi. Perché se noi fossimo tutti onesti e tutti non violenti, non ci sarebbe nessun problema a distribuire le pistole. però questo non accade, chissà come mai. E allo stesso modo tu hai dato un'arma, tu dai un'arma a un potere che non ne risponde democraticamente, la commissione, e ne ha subito abusato. Tu dai a un potere che non risponde democraticamente un'arma come una valuta e tu non saprai, tra l'altro la BCE non ne risponde democraticamente in modo oggettivo perché non viene nominata da un'elezione, anzi si vanta di essere distaccata dagli stati nazionali. Quindi tu dai un potere non democratico a un'istituzione e questa che ne farà? È matematico che ne abuserà, ma proprio nella definizione del fatto che è indipendente dalla volontà dei cittadini. Quindi perché noi diamo, perché dare delle pistole cariche? O non diamole o se le diamo allora le diamo a tutti. Quindi allora avremo che valute tanto più che tutelano la privacy saranno tanto più utilizzate tanto più sviluppate. Adesso c'era una volta quando scrivevo per Cryptonomist un milione d'anni fa o forse due c'era una valuta che è l'ultimo articolo che ho fatto che riusciva a nascondere i wallet di chi inviava e chi riceveva la criptovaluta stessa tramite l'algoritmo. Non mi ricordo neanche più come chiamasse pensate che la sto cercando perché l'avevo scritto un articolo su questa qui una criptovaluta del genere sarebbe l'ideale perché come la banconota non sai da dove viene e non sai da dove va. Ma banalmente Monero non era Monero perché Monero sai che puoi tracciare potresti tracciare era lì in quel caso praticamente il controllo veniva fatto sulla entità globale emessa della valuta virtuale l'algoritmo controllava la valuta virtuale nel suo complesso per cui i singoli attori non erano controllabili e era guarda un giorno troverò l'articolo che è nascosto da qualche parte eh sì infatti ma in ogni caso queste soluzioni tecnologiche sono state le prime ad essere state attenzionate non è un caso ovviamente cioè siccome il potere per diciamo anche fermare quello sviluppo economico e tecnologico è banalmente fermarne l'afflusso centralizzato quindi bloccare le porte agli exchange perché qualche anno fa se non eri listato su un grande exchange praticamente andavi a sparire è stato il primo ban che è stato fatto quindi fuori Monero fuori Dash fuori Zcash fuori qualsiasi cosa potesse essere una soluzione che mantenesse diciamo l'anonimato o la fungibilità dico io più che altro non è tanto l'anonimato eh il problema che rimane sempre quello cioè il problema rimane sempre quello del passaggio tra la valuta valuta e la valuta fiat il momento di controllo effettivo perché fin quando tu rimani al di fuori del mondo della valuta fiat tu sei libero e bello bisogna dire che secondo me soprattutto anche con l'utilizzo col tempo con l'utilizzo anche dell'AI eccetera si riuscirà a semplificare questa cosa e potranno mettere tanti controlli ma quando io ho sempre un rapporto peer to peer con l'altra persona se l'altra mi accetta la pizza di fango della Cameroon va bene perché a me l'accetta l'altra persona e ciò rimane è sempre legato alle singole persone e quello che accettano il fatto poi di uscire di migliorare sempre dal punto di vista tecnologico voi siete piccoli giovani ma io mi ricordo cosa significava transare bitcoin nel 2012 10 o 12 anni fa non era proprio una cosa così semplicissima e comunque l'avanzamento io sono molto vecchio l'avanzamento non è semplice neanche oggi quindi figuriamoci dal 2012 12 anni fa ancora oggi non è la cosa più semplice user friendly del mondo esatto io vidi uscire e già me ne occupavo il famoso white paper dell'uomo che mai è stato trovato quindi questo mi dà un'idea di quanto da quanto tempo che ormai mi occupo di queste cose comunque tornando al discorso la tecnologia sicuramente darà una mano dall'altro lato ci saranno anche dei problemi cioè io vedo che la maggiore estrettività da un lato aprirà per forza degli spazi dall'altro lato perché non si può comprimere la libertà personale al di là di un certo livello sì che tante cose hanno provveduto in questa direzione ma comunque una parte di inventività e di capacità di liberarsi dei vincoli rimarrà sempre nell'uomo stesso almeno me lo auguro poi magari mi sbaglio nel discorso che hai fatto cioè chi è sicuro del successo di bitcoin è proprio sicuro perché perché dall'altro lato hai comunque una moneta che viene emessa tramite la decisione appunto di qualcuno e quindi si è dato tutto quel potere di cui stavamo parlando in mano a qualcuno che prima o poi ne abuserà quindi non è una questione di se ma di quando prima o poi ne abuserà e quindi renderà quello strumento tecnologico inefficace a quel punto quello che invece è incorruttibile avrà anche solo tramite la stampa anche solo tramite la stampa e quello intendo anche solo stampa allora il problema esatto il problema è molto anche semplice è vero Grazie a tutti Grazie per la visione!